Buon salve, buon salve, da quanto tempo siamo tornati sulle meme compilation Era da un sacco che non lo facevo e ho detto perché non farlo quest'oggi Ho scelto una bella compilation di meme, se così si dice E niente, iniziamo subito Ok, c'è questo gatto che ammazza una gallina di minecraft Bene, oddio, oddio no, no Bravo Che cacchio gli sta dando? Ma 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 No, no, finisce male L'avevo detto io Ma Ma Perché Ma Ma Perché fanno ste cose Io avrei paura a fare ciò Soprattutto gli struzzi Ecco, gli struzzi sono cattive persone Bravo Bravo Ok Non fa ridere Questo fa ridere il boomer No L'ha rotto Genio dell'anno Cioè Doveva farlo quella cosa Ma 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 Perché entrare Con Un veicolo del genere in un cinema Ma Ma Che cacchio ci fa quel pollo no no non provate la casa ecco ma che brava ma che sembra un'altra cosa ma non lo voglio dire ma che sto schifo questo è il cane che vogliamo tutti bravo che cacchio sta ma stanno parlando un gatto e un gambiano cosa si staranno dicendo quel gatto e quel gabbiano no brava ma che cacchio ma non come scemo non so perché mi ha fatto ridere sta cacata una persona che pensa sia pollo vero in realtà è pollo di gomma eccolo diritto nella lava no mamma mia no ah ma lo sta praticamente prendendo per il culo al gatto e il gatto tipo ma che cacchio aspetta aspetta ho letto bene c'è scritto the penis ma ma signor gatto cosa ha fatto sembra strafatto il gatto ma che cacchio ma perché c'erano telefoni nello stivale ok ma chi ha un procione in macchina che cacchio sta chiedendo pietà che cacchio sta facendo ma che cacchio ma che cacchio si muore secondo me ma che cacchio fa ecco un cane che si avventa sul suo peluche E poi c'è il gatto lì Inquietante Ma che problemi hanno? Ma... Bene Non sono più le meme compilation di una volta Devo dire E' stato un po' strano questa meme compilation Sembrava più tipo paperissima Non mi ha fatto granché ridere Ecco perché forse YouTube Italia non fa più un meme compilation Ok Andrò a scavare su TikTok allora Bene Spero che in qualche modo vi sia piaciuto questo video Un po' così frivolo Se si lasciate un bellissimo like Iscrivetevi al canale Importante Iscrivetevi mi raccomando Fatelo Mi raccomando Seguitemi su Instagram e su altri social Link in descrizione E niente Noi ci vediamo Alla prossima Noi ci vediamo Noi ci vediamo Noi ci vediamo Noi ci vediamo